credo che sia giusto ricominciare, saluto tutti i rappresentanti del mondo della protezione civile dallo spirito di volontariato, dallo spirito civico, dallo spirito di generosità che vogliono passare dalla piazza Dante domani, qual è la forza, non è scontato trovare i corpi che abbiamo in Trettino grazie e buonasera sicuramente è importante e dobbiamo liberfarlo avete capito che c'è una media di 50 ricordiamo che tra l'altro il servizio attivo parte dal compimento dei 18 anni di servizio del sindaco grazie, una foto tutti insieme con le di servizio anni di servizio grazie a te Mauro, sempre per i 30 anni di Alan da parte della comunità grazie sì da conoscarsi in fondo in fondo alla scaletta così e anche successivamente anche per i l'orgoglio però di questi raggiungimenti non sono solo individuali ma anche di la fotografia che ha confezionato per noi questo splendido video a forza e anche oggi io con Elvis dobbiamo farci forza per anni poi parleremo degli allievi che è proprio il nostro e magari anche un gradito rinfresco ecco, questo è un'opera professionale presenza ai nostri vigili istruttori che mantengono veramente un inquarciamento da parte vostra non vi parebbe assolutamente disfessuto durante questi particolari 2020, 2021 e 2021 anche Epis dall'ultima edizione dedicata alle beneverenze 2019 bene intendo inaugurare la nostra caserma a febbraio del 2020 e poi della comunità della Valverina qui rappresentata dal Presidente con la parola vigili e allora mi sono sentita di scrivere dal vigile di Roberto Zampi Alessandro che è responsabile naturalmente ospitare questa cerimonia dopo tutti questi dopo questi speciali lo voglio fare a tutti coloro che ci hanno dato le parti territoriali si adottano per perché naturalmente c'è un vigile di tutto quello che le attrezzature MSA e tre per le attrezzature Draeger